buongiorno a tutti amici camminatori e tanti auguri a me grazie amore e per festeggiare visto che sono una persona un po alternativa come avrete capito siamo venuti a farci un bel bivacchino qua in valcamonica e adesso stiamo andando a fare la vala da me allora il primo obiettivo è il rifugio città di vissone la prima parte è la parte più impegnativa perché è tutta fatta a gradoni sono circa due chilometri dove si raggiunge già la maggior parte della quota e appena finite le scale le cosiddette scale dell'adamello per un bel motivo si raggiunge il rifugio città di vissone dopodiché proseguiremo tutto lungo tutta la vala da me per vedere questa meravigliosa valle glaciale spettacolare la giornata anche se adesso non si direbbe si prospetta bellissima stanotte ci siamo presi un bel temporalone sotto la tendina ma per fortuna sacchio a pelo materassini tenda hanno retto benissimo all'acqua all'intemperie e adesso il cielo è bellissimo tutto azzurro solo che non è ancora arrivato il sole niente a tra poco ci vediamo più avanti ciao 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 e si riparte cambio schiena per d'orti abbiamo già visto qualcosa di molto interessante per la piccola stiamo gallopando in quella direzione tra poco ve lo vedrete adesso siamo appena abbandonato il rifugio città di l'issone a 2020 metri e stiamo puntando verso la baita da me che è verso il fondo bollata vedrete che meraviglia a tra poco questo sono i regali di compleanno che mi piacciono perché non mi piacciono ma 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.